benvenuti sul mio canale per i nuovi che stanno guardando questo video e bentornati agli iscritti oggi ho dovuto interrompere una mia attività di pesca spinning perché mi si è rotto una canna nulla di grave però mi ha compromesso la pescata la canna che si è rotta questa una canna un po datata ma molto funzionale perché lunga due metri dieci un'azione da 10 30 grammi e telescopica infatti io la porto quando da lavoro la metto dentro uno zaino e con la cassetta degli artificiali ci sta tutto dentro lo zaino quindi molto pratica e mi è successo che dopo qualche lancio il secondo anello ovvero questo ha iniziato a girare su se stesso e questo mi ha compromesso tutti i lanci nel senso che muovendosi non lanciava correttamente ma anche non recuperavo correttamente mi faceva un po fatica quindi ora sono trovato a casa e la riparo prima di farvi vedere come ripararla vi ricordo di iscrivervi al mio canale a mettere un like se vi piace il video di aiutarmi a far crescere il canale così da arrivare almeno a mille iscritti e da fare un giveaway su instagram proprio per questo ti invito a seguirmi sulla mia pagina instagram per rimanere sempre aggiornato nella descrizione troverai inoltre il link della colla da me utilizzata e il link della mia wish list di amazon andiamo a ripararla ecco la canna l'occhiello che mi ha dato problemi oggi a pescare spinning è questo qua che nonostante io tenga fermo qui la canna questo qui si muove e muovendosi questo occhiello non mi garantisce al lancio e un recupero corretto e poi non è giusto che funzioni così la canna quindi vado a metterlo a posto prima cosa da fare e cercare di rimuoverlo delicatamente adesso la seconda cosa è andare a togliere i residui di colla vecchia quindi con un pezzo di scottex umido vado a dargli una pulita per fare un bel lavoro vado a dargli una leggera carteggiata qui intorno un pezzo di carta abrasiva grana 400 vado a dare una carteggiata nella parte di dove ho tolto l'occhiello faccio attenzione a non andare troppo oltre da andare a rovinare la parte verniciata ora do una pulita alla parte carteggiata con questo pezzo di carta umido lascio asciugare un attimo anche se con queste temperature di questi giorni fa abbastanza caldo e vado a preparare la colla bicomponente la colla da bicomponente da me utilizzato è questo qui pattex power epoxy salda tutto è una colla bicomponente possidica e ha una tenuta molto forte mescoliamo tutto tanto non ne serve tanta quindi poca così è più che sufficiente pulisco bene il la stecchetta e facendo attenzione a non metterne troppo vado a metterla nel nella canna omogeneamente su tutta il la circonferenza della canna ora inserisco l'occhiello facendo un po di pressione e lo porto a filo vado a spostare la colla bicomponente contro l'occhiello con un altro con un altro legnetto più pulito mi aiuto spingeva contro così da non lasciare segni ora non rimane che lasciarlo asciugare ora la colla è asciutta e il lavoro è venuto in modo perfetto ve lo mostro nel dettaglio se ti è piaciuto questo video se vuoi sapere altre cose di la tua qua sotto nei commenti ciao a tutti al prossimo video